Una quarta edizione all'insegna dell'innovazione e della sinergia con il territorio. Col Diretti Brescia, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e con il Comune di Brescia, presente il progetto Il Cibo Sano per ogni bambino, una sana e corretta alimentazione nelle scuole per promuovere tra i giovani studenti un sano stile di vita, come previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e del MIUR. Noi abbiamo sposato fin dal primo anno questo progetto di Col Diretti, un bellissimo progetto che permette di educare i nostri bambini, i nostri bambini, i nostri ragazzi e conseguentemente anche i genitori ad una alimentazione sana e soprattutto a conoscere la filiera, a conoscere qual è la qualità del prodotto, qual è la tracciabilità di questo prodotto e aiuta non solo le nostre aziende ma aiuta noi stessi a non disperdere una grande civiltà che è la civiltà del mangiare bene, del mangiare mediterraneo che ci invidiano nel mondo. Beh è bello vedere, permettere ai bambini di vedere da vicino per esempio la produzione del miele, la possibilità di entrare in un'azienda e di guardarsi intorno, cosa che diversamente non potrebbero fare in un tempo rapido dove questa tecnologia ci permette di arrivare anche a dei contenuti informativi formativi altissimi, poi si tratta sempre di essere condotti per mano e qui abbiamo degli insegnanti molto bravi e abbiamo la Col Diretti che a fianco agli insegnanti sta facendo questo percorso. L'educazione alimentare è un progetto fondamentale per quanto riguarda le nuove generazioni ma che saranno i cittadini consumatori di domani, quindi dargli le giuste nozioni in termini di conoscenza, di carattere culturale ma soprattutto di quello che avviene all'interno delle imprese agricole e nelle trasformazioni delle filiere agroalimentari vuol dire metterli nella condizione un domani di poter scegliere con consapevolezza che cosa acquistare, che cibo consumare. L'Italia sotto questo punto di vista è punto di riferimento a livello mondiale per la qualità proprio dei suoi prodotti e quindi è giusto dare le giuste informazioni ai bambini ma anche all'interno dei plessi scolastici proprio perché queste informazioni vengono divulgate il più possibile. I visori diventeranno lo strumento per far vedere e quasi toccare con mano quello che è l'attività che gli imprenditori agricoli svolgono nel loro quotidiano in diverse filiere produttive, quindi per quest'anno abbiamo scelto il settore lattiero caseario, la produzione del miele e anche altre produzioni che contraddistinguono la nostra provincia come il settore avicolo e creare un meccanismo di controinformazione rispetto a una tanta disinformazione che purtroppo sui social compare.